allora la mia prima sigaretta l'ho fumata circa 12 anni mia mamma è andata era andata fuori di casa e mi ha lasciato da sola con le sue sigarette e quindi ho provato una volevo provarne una mentre fumavo mi guardavo nello specchio pensavo che ero proprio cool poi è tornata mia mamma prima hanno usato l'aria ha detto è passato un uomo in casa perché eravamo solo noi due io ho detto no ma avevo proprio paura e scommetto che si vedeva continuava ad usare l'aria poi ha detto stavi fumando stavi fumando mentre che ti guardavi nello specchio e io che la guardavo così e lei mi ha detto scommetto che sembravi un asino con grissino in bocca e questa immagine mi ha disturbato così tanto che non ho fumato per poi un altro anno dopo di quello